Il 44,2% dei marchigiani adulti pesa più di quel che dovrebbe, con il 33,7% in sovrappeso e il 10,5% che ha problemi di vera e propria obesità. Ad affermarlo in occasione dell'Obesity Day è la Coldiretti Marche, sulla base di un'analisi di dati Istat relativi alle condizioni di salute nel 2013. Un problema che riguarda soprattutto gli uomini. La percentuale di maschi in sovrappeso o obesi è infatti di gran lunga superiore a quella delle donne. Il 54,1% contro il 34,9%. A pesare, secondo Coldiretti, è l'addio alla dieta mediterranea, che con pane, pasta, frutta, verdura, extravergine e il tradizionale bicchiere di vino consumati a tavola in pasti regolari, hanno consentito ai marchigiani di conquistare fino ad ora il record della longevità. Ma è allarme anche per le nuove generazioni, dove si stima che un ragazzo su quattro, tra i 6 e i 17 anni, abbia problemi di peso. Numeri che, secondo Coldiretti Marche, devono indurre a intervenire, proprio a partire dai bambini e dagli adolescenti, quelli più a rischio a causa del consumo di alimenti poco salubri.